Siamo col format 1v1 Sturdi Che è il miglior ballerino, come ti chiami? Christian Allora adesso iniziamo, 30 secondi testa, vediamo chi è il migliore Io sono il suo allenatore Com'è? È carico? Sì, sì, è carico Siamo allenati settimane, mesi, giorni, anni Scrivete nei commenti che è il migliore E nei miei sondaggi su Davide.quelli su Instagram, iniziamo Carico, 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 però è più carico il mio, per il video Il 2011 è carico Ci provo Dai, dai un po' di casino Come siete andati? Schifo, non mi sono impegnato